Siamo contro questa ulteriore tassa che praticamente ci mancava solo l'ultima e siamo al completo. Adesso, figuriamoci che chi ha due macchine sta a significare un doppio bollo di circolazione. Pertanto siamo qua per protestare proprio per questo. E certo che siamo arrabbiati. Purtroppo noi non abbiamo lo stesso stipendio degli assessori o del sindaco o dei consigli comunali qui che guadagnano una montagna di soldi. Loro hanno il signor sindaco 250 mila euro l'anno, 250. Facciamo un po' il cambio. Lei, signor sindaco, campa con 1.500 euro al mese e paga tutte le tasse, non l'ultima questa. E vediamo se ci arriva a fine mese, con il mutuo sulle spalle pure, una famiglia, due figli, la scuola e quant'altro. Poi va a camparci lei e mi viene a metter 300 euro. È una vergogna, vi dovete vergognare perché non fate fare il referendum anziché bloccarlo. Siamo qua per il referendum. Vediamo se il popolo, Palermo, vuole il referendum oppure no. Vediamo se vuole questa cavolo di ZTL oppure no. Sono sapagalese, signor sindaco.